E continuano i casi di violenza nel nostro paese Oggi in provincia di Udine una donna è scampata da una fine orrenda da parte del marito Lesioni corporali, maltrattamenti e minacce sono i reati che la donna aveva più volte denunciato ai carabinieri Ma senza alcun esito Poi danno sempre la colpa ai migranti Ma le statistiche dicono altro Gran parte degli abusi avviene dentro casa Addirittura una ragazza su tre ha subito violenze da parte di un familiare E questo che c'entra? Il 25% ne ha subite già all'età di 15 anni E che da fratello sono preoccupato? Questi dati sono allarmanti Fossero tutti così? Il 40% delle donne subisce violenza psicologica da parte del proprio compagno Sembra grave Ma guarda che io sono prudente La maggior parte delle volte La vittima non ha mai il coraggio di denunciare Ora la devi smettere Non ti devi preoccupare Questi crimini restano spesso e volentieri Impuniti Però tu Tu sei diverso dagli altri Magari trovassino come te Non vorremmo mica abbassare la media La prossima volta però la fai tu la vittima Adoro questi giochetti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti